Il derby toscano al Marcello Melani si tinge di arancione, è la Pistoiese a conquistare una vittoria contro una Lucchese che si arrende ad un'altra sconfitta dopo quella contro il Prato. A decidere il match è stato il colpo di testa di Sinigaglia al 58esimo su sviluppo di un calcio d'angolo. Dopo un primo tempo di marca rossonera, anche se privo di grandi emozioni, è nella ripresa che esce una diversa Pistoiese, crescono i ritmi di gioco grazie all'inserimento di Piscitella e davanti ad un avversario appannato e un po' in affanno, gli uomini di Mister Alvini si riorganizzano e tengono in mano il gioco, trovando così il gol del vantaggio. Al 78esimo il rigore concesso dall'arbitro per fallo di mano di Benvenga, che si procura un bel cartellino giallo, potrebbe far chiudere la pratica in anticipo ai padroni di casa, ma così non è, perché dagli 11 metri di Bari sbaglia con De Masi che devia. Più tardi ci prova Sinigaglia, ma c'entra in pieno l'incrocio dei pali. Lucchese senza reazioni, unico sussulto sul finale di gara quando sfiora il pareggio con Pozzebon su punizione, ma il numero uno di casa, Iannarilli, è pronto a compiere il miracolo. Primo successo tra le mura amiche per la Pistoiese e tre punti in più in classifica, che la vede in buona posizione. Per la Lucchese momento delicato e silenzio stampa. Del calcio di rigore non parlo, perché è diventata una cosa che mi fa venire i nervi in maniera pazzesca, e secondo me mina questa cosa anche un po' di equilibrio nel spogliatoio. Non parlo più, il prossimo rigore quando verrà dato lo deciderò io chi lo tira. Sapevamo, come vi ho detto ieri, che è una partita tosta, di livello, perché la Lucchese veniva qua a giochiarsi tantissimo, dalla sconfitta di domenica, noi venivamo da una vittoria, io avevo visto la squadra in settimana, questa è una squadra che non è abituata a reggere, a tenere dei ritmi alti, a cambiare mentalità se vuole fare una crescita. E ieri vi ho detto che era una partita difficile, così è stata, però ho merito a questa squadra, ai miei giocatori, grandissimo merito, perché hanno saputo cambiarla. Questa è una vittoria fantastica per la squadra, per la società, per Pistoia, e sono contento tantissimo.